Andiamo? Oh! Questa fa, Matti! Bisognava arrivare di là? Niente! Non c'è niente! Non c'è niente! Mi chiede anche da tre pedaglie! Non penso proprio! Ho visto, ma io non lo farò! Ma ne è senso! Io non capisco! Ma ne è senso! Io non capisco! E' buona! Matti, aspettami! Sì! Ho visto! Non mi sembrava tanto... No! Però magari stai ridendo... Io la trovo! Oh, io ho frenato come al solito! Ma io ho preso! No! No!